Ragazzi per manciar ma svegli un po' La nuova comedia che vede protagonisti un gruppo di giovani sotto la sua direzione Lorenzo è tutto pronto? Si va in scena? Eh sì, il 12, quindi venerdì prossimo saremo in scena per tre giorni alla Sala Don Milani di Bellocchi che è praticamente, Bellocchiana è più conosciuta come la Chiesa Vecchia che è stata rimessa a posto e noi la usiamo, l'abbiamo diciamo così per l'occasione trasformata in un piccolo teatro gli attori sono tutti giovani, il titolo della commedia è Condominio Sirena che cosa vuol dire? È uno spaccato di vita che molti di noi conoscono quelli che abitano in un condominio e in un condominio si trova di tutto questo condominio però ha una particolarità ha una portineria dove lavora Tina, la portinaia è una giovane ragazza e forse per questo viene presa un po' di mira da tutti chi in modo benevolo e chi in modo un po' meno benevolo finché a un certo punto questa ragazza dà diciamo spunto a chi non gli vuole bene di trattarla ancora peggio perché rimane incinta ma il fatto è che non si sa chi sia il padre e questo mette in agitazione buona parte del condominio che cominciano a fantasticare, a prendersela con lei e succedono un sacco di cose però se mi interessa sapere o conoscere chi è il babbo di questo futuro bambino bisogna che venite alla sala Don Milani venerdì, sabato e domenica alle ore 21.15 è necessaria la prenotazione? noi facciamo, siamo un po' diversi da quelli che sono gli spettacoli normali sì, l'ingresso è a offerta però sarebbe bene presentarsi alla sala Don Milani dalle 18 alle 19 a partire da mercoledì per l'assegnazione dei posti perché i posti sono numerati e logicamente chi prima arriva, prima prenota è meglio stare grazie